buongiorno per questa domenica delle palme ho pensato di leggere qui così ad alta voce registrare e mandare in onda un mio articolo che è uscito qualche giorno fa su repubblica il cui argomento la preghiera è che la redazione di repubblica ha intitolato i giorni del congiuntivo riprendendo un'espressione che uso nel corso dell'articolo eccolo ve lo leggo i milioni di persone davanti alla tv per il papa e per il rosario segnalano un bisogno di pregare che forse si riteneva superato ma cosa significa pregare nel 1916 wittgenstein si trovava sul fronte orientale della prima guerra mondiale mentre si scatenava il più grande attacco nemico la cosiddetta offensiva brusilov in mezzo a perdite altissime la sua azione ebbe un certo rilievo visto che il primo giugno venne promosso caporale e il quattro decorato pochi giorni dopo l'11 giugno colui che diventerà uno dei più grandi logici e filosofi del novecento annotava la matita sul suo quaderno il senso della vita cioè il senso del mondo possiamo chiamarlo dio pregare e pensare al senso della vita nelle trincee del fronte tra il sangue e la sporcizia wittgenstein pregava pensando al senso della vita ma pregare è veramente pensare al senso della vita pregare viene dal verbo latino precari da cui anche l'aggettivo precario ovvero chi non ha problemi non prega chi è nella precarietà prega le parole non mentono a sua volta l'etimologia del verbo pensare viene da pesare chi pensa pesa soppesa pondera da un peso un pondus alla realtà che peso alla realtà prendiamo la natura che in questi giorni ci mostra il suo volto terribile che peso ha domandarselo significa fare della mente una bilancia che pondera i vari argomenti a favore del senso o del non senso senso non senso della natura del suo essere madre oppure matrigna lo stesso vale per la vita la morte l'amore la bellezza il diritto il divino e chissà che altro che peso hanno tutte queste cose e che peso dare loro nella nostra esistenza porsi queste domande significa pensare pensare al senso della vita ma perché allora wittgenstein scriveva che pregare e pensare al senso della vita il rigore del pensiero esige che si valutino i singoli argomenti in modo obiettivo senza sbilanciarsi a favore del bene o del male ma piuttosto collocandosi al di là del bene e del male noi però perlomeno io lo so voi diciamo noi però non siamo solo freddo pensiero siamo anche passione desiderio volontà e quando noi si afferma questa dimensione calda il pensiero non è più puro ma diviene di parte parteggia si fa partigiano chi prega è un partigiano della realtà del suo senso della sua carica positiva se la mente di chi pensa è una bilancia che pesa in perfetto equilibrio la mente di chi pensando prega è una bilancia sbilanciata a favore del bene rispetto al male della vita rispetto alla morte del senso rispetto all'assurdo per questo la preghiera è al congiuntivo se fosse puro pensiero essa sarebbe all'indicativo come Emanuele Severino ritrascriveva il padre nostro padre nostro che sei nei cieli è santificato il tuo nome viene il tuo regno è fatta la tua volontà ma la preghiera di Gesù è al congiuntivo un modo verbale che non si limita a indicare ma vuole congiungere unire ciò che è unito non è che cosa non lo è la volontà di Dio è lo stato del mondo il mondo nella sua libertà spesso non rispecchia la volontà di Dio e per questo Gesù insegnò a pregare al congiuntivo venga il tuo regno sia fatta la tua volontà l'indicativo è neutrale il congiuntivo è partigiano io penso che oggi quando siamo così separati che non possiamo più neppure darci la mano tutti abbiamo un grande bisogno di sentirci congiunti di sperimentare la forza congiuntiva del pensiero che prega cioè parteggia a favore del bene questi sono i giorni del congiuntivo la preghiera può essere rivolta a un dio o a una dea a un santo o a un saggio a una montagna o al mistero muto dietro le stelle può essere fatta di parole o di silenzi può essere religiosa o laica in ogni caso in tutte le sue forme essa si manifesta come forza congiuntiva e noi abbiamo un bisogno immenso di essere congiunti per far pendere il piatto del nostro amato paese a favore della salute dell'armonia dell'unità perché la vera differenza dicevano roberto bobbio ripeteva il cardinale martini non è tra chi crede e chi non crede ma è tra chi pensa e chi non pensa pregare significa pensare al senso della vita perché venga perché sia fatto questo senso pregare così in qualunque modo noi siamo capaci come un secolo fa aveva intuito il caporale wittgenstein buona domenica